Vicepresidente Graglia, cinque giorni di salone nella quale il Consiglio regionale è stato protagonista, si è andati dallo sport allo spazio, all'identità piemontese, insomma, quanto è importante che tornare a eventi come questi e l'ufficio di presidenza naturalmente è stato presente in maniera costante. Siamo ritornati a una seconda vita finalmente perché eravamo abituati a un ritmo che non era il nostro, quindi siamo felicissimi di essere qui oggi al Salone del Libro, abbiamo organizzato una cinque giorni impegnativa, abbiamo voluto dare anche il giusto valore a certe iniziative, ma a certi personaggi, oggi a questi atleti che ci hanno fatto sognare, emozionare perché abbiamo vissuto un'estate sportiva come mai e quindi siamo orgogliosi di essere italiani, in questo momento siamo soprattutto orgogliosi di essere piemontesi perché abbiamo i nostri atleti piemontesi medagliati presenti, quindi oggi il cuore batte forte.